per consegnare questo premio con noi Managing Director della Fondazione di Sardegna Carlo Mannoni benvenuto benvenuto Carlo, piacere di ritrovarti grazie sul palco Fondazione Sardegna impegnata sul campo anche a sostenere l'innovazione l'abbiamo raccontata più volte dal palco di Startup Italia quest'anno diciamo partiamo da oggi con un nuovo progetto che è l'Open Summit in Sardegna Sardegna Open Summit da Milano alla Sardegna partiamo a marzo un percorso che dura un anno che non è solo un momento così pubblico ma che è un lavoro continuo a supporto dell'ecosistema della Sardegna in collaborazione con i soggetti privati e pubblici un contesto di cui già abbiamo parlato e che vorremmo continuare a tenere ad un certo livello di attenzione a livello nazionale e internazionale da marzo quindi tutti in Sardegna ma anche prima e di lì per tutti i disabboni avanti qualche bagno è stata facendo Carlo Mannoni insieme al vice direttore di Startup Italia vice direttrice Chiara Trombetta di fatto consegnano il premio speciale community the winner is Train It Train It Train It abbiamo Train It in sala Train It ecco congratulazioni al centro per la fotografia attenzione che grazie grazie Daniele Baroncelli grazie Train It Train It Train It Train It grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti